Marcello Berloni se n'è andato oggi. Sono stati dieci anni di sofferenza, lotte e speranza. Sicuramente la malattia che lo aveva aggredito in quest'ultimo periodo e anche la conseguenza di tanto dolore sono le parole commoventi scritte da uno dei figli del noto imprenditore deceduto all'età di 84 anni all'ospedale di Pesaro. Marcello agli inizi degli anni 60 fondò insieme al fratello l'azienda Berloni Cucine portando in alto il nome di Pesaro a livello nazionale e internazionale. Poi la crisi che nonostante gli sforzi cambiò le sorti dell'azienda passata ad una cordata taiwanese. Una trentina di anni fa invece la famiglia acquistò l'area termale di Carignano un investimento importante per un progetto ambizioso di rilancio tanto che all'inizio entrò a far parte della compagine azionaria anche Pippo Baudo. La vicenda però fu lunga e piena di problemi tra cui un parere negativo della soprintendenza che impedì la completa realizzazione del polo termale. Inizialmente la struttura era di entrambi i fratelli, successivamente con la divisione dei beni all'interno della famiglia il 72% delle quote passò a capo di Antonio mentre il restante finì in mano l'impresa di costruzioni Italino Mulazzani. Poi il falimento, la messa all'assa dei beni da parte del Tribunale di Pesaro, la decisione di chiedere al comune un maxi risarcimento dei danni e nel 2020 l'acquisto da parte del gruppo Romani. Con Marcello Berloni, ha commentato il sindaco Matteo Ricci, scompare un pezzo importante di storia dell'imprenditoria pesarese. Ha creato sviluppo, occupazione e benessere nella nostra provincia. Ricordato invece la presidente di Confindustria, Alessandra Baronciani, se ne va una persona semplice, fortemente legata alla sua famiglia, giunto e ai luoghi nei quali ha vissuto e operato. La notizia della sua scomparsa ci addolora profondamente e di lui ci resta un esempio di imprenditoria innovativa che ha reso famoso il nostro territorio grazie al brand che si è imposto in tutto il mondo. Domani, ha raccontato il figlio, avremmo celebrato una cena con le famiglie finalmente riunite, con fratelli, mogli, cugini e nipoti, oltre che con alcune delle tante persone che lo hanno conosciuto, stimato e amato nel corso della vita. Era una sorpresa per Marcello che avevamo pensato di denominare insieme. Tornare nuovamente insieme il suo più grande desiderio, nostro padre resterà per sempre insieme a noi e a chi gli ha voluto bene, nei ricordi, nei progetti di lavoro, nel suo meraviglioso sorriso.